Un viaggio come segno di pace per l'Egitto e per tutta la regione che soffre per i conflitti e il terrorismo. Papa Francesco ha spiegato così la sua due giorni al Cairo nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Ripercorrendo la visita all'Università Al-Azhar, la più antica università islamica e massima istituzione accademica dell'Islam sunnita, il Pontefice ha ricordato che la pace si costruisce mediante l'educazione e in primo luogo nel cuore di ogni uomo. L'Egitto ha sottolineato per il suo patrimonio storico e religioso e per il suo ruolo nella regione ha un compito peculiare nel cammino verso una pace stabile e duratura che poggi non sul diritto della forza ma sulla forza del diritto. I cristiani in Egitto, come in ogni nazione della terra, ha proseguito il Papa, sono chiamati ad essere lievito di fraternità. Ricordando poi la dimensione ecumenica del viaggio, la preghiera comune per i martiri dei recenti attentati contro i copti, Francesco ha detto di aver visto la bellezza della Chiesa in Egitto ed ha confidato di aver pregato per tutti i cristiani nel Medio Oriente perché siano sale e luce in quelle terre in mezzo a quei popoli. L'Egitto per noi è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto quando quella parte del mondo era affamato, Giacobbe con i suoi figli se n'è andato là, poi quando Gesù è stato perseguitato è andato là. Per questo raccontarvi questo viaggio entra nella strada di parlare di speranza. Per noi l'Egitto ha quel suo segno di speranza sia per la storia sia per oggi, per questa fraternità che vengo di raccontarvi.